Certo, io ho il piacere di guidare questa organizzazione che penso sia una delle realtà più fermate sul territorio lombardo per quel che riguarda la palla noto. Siamo subentrati nel mese di luglio e stiamo mettendo in campo tutta una serie di misure per dare il giusto input, la giusta organizzazione a questa realtà. Stiamo sistemando tutto quello che c'è da sistemare e sconfidiamo in un'azione molto incisiva per quel che riguarda la palla noto a Bustazizio. Cosa vi aspettate? Avete anche delle buone relazioni con l'amministrazione? So che durante questa estate vi siete trovati con l'assessore Artusa che sta seguendo da vicino la questione fiscina. Certo, ogni associazione, ogni organizzazione è giusto che si rapporti a dialoghi con quella che è l'amministrazione comunale. Io ci tengo a ringraziare l'amministrazione per quello che sta facendo perché sono convinto che sta facendo tutto quello che è il loro potere per poter riattivare questo impianto che serve alla città e serve soprattutto a noi per poter portare avanti quelle che sono le nostre idee. Da parte loro, per quel che mi riguarda, vedo ampia disponibilità e collaborazione. Confidiamo in loro e diamo loro fiducia.